ciao ragazzi come state ragazzi e ragazze ladies and gentlemen state bene ormai chi si ricorda più la scuola com'era ma non è un problema noi continuiamo in questa maniera tanto la scuola mi sa che non riaprirà a breve quantomeno dunque state bene scusate l'abbigliamento io ho questa giacca Goretex anni 90 con la quale tra l'altro andai a caponord nel 1994 quindi tiene piuttosto caldo perché sono in un ambiente piuttosto freddo e in questi giorni il clima sta un po facendo i suoi dispetti io sono piuttosto stanco di stare in casa non so voi ma comincio ad avvertire un po di di stanchezza psicologica e muscolare ormai i muscoli talmente atrofizzati che faccio fatica andare dalla cucina al bagno sto diventando cappellone sa che ci ritroveremo tutti quanti alla fine di questa storia cappelloni un po ingrassati ma con le mani pulitissime pulitissime mi raccomando dunque venendo noi aspetta un attimo che cambio la prospective volevo farvi un brevissimo video su l'utilizzo di sequencer online perché era l'ultimo argomento che stavamo affrontando insieme quindi adesso ve lo faccio vedere per bene così poi magari a casa ci lavorate e vi do anche delle indicazioni su cosa fare quello che dovete fare andare su google ok qui qua ci siamo ormai in questi giorni siete esperti di piattaforme informatiche e digitali computer cloud drive meet eccetera eccetera quindi banalmente andate su google andate su google e cercate sequencer online ok enter allora sequencer online è il primo il primo sito se volete cercare in questo modo cercate in questo modo altrimenti scrivete il l'indirizzo esatto che è online 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 sequencer dot net punto net quindi cliccate qua e andate venite spediti su questa pagina vedete qua c'è l'indirizzo online sequencer punto net allora adesso vi spiego un pochino le varie funzioni di questo sequencer online che avevamo con alcuni di voi già cominciato ad utilizzare non con tutti insomma non è così complicato capirlo e quindi direi direi che anche chi non era presente alle lezioni nelle quali abbiamo cominciato a studiare questo 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 sito dovrebbe riuscire abbastanza facilmente a capirlo bevo scusate bevo bevo dunque 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 sequencer online allora vediamo un po cosa succede qua qui avete partiamo da questo menu file quindi andate qui file new save save local file export media per adesso non ci interessa perché dal momento in cui voi venite indirizzati in questa pagina potete già come vedete cominciare a scrivere quindi se io sto scrivendo un brano poi dopo voglio invece mi accorgo che voglio fare un'altra cosa andrò qua su file farò new nuovo oppure lo salvo e esporterò il midi ma insomma sono funzioni queste che non ci interessano quindi adesso io seleziono tutto e cancello questa roba e poi menu file va bene lo vediamo poi dopo quando c'è il l'operazione di salvataggio che magari vi spiego due tre cose menu edit undo copy cut paste cioè elimina l'azione precedente copia taglia incolla seleziona tutto sono tutti questi comandi generali e abbastanza frequenti vi consiglio per questo motivo di impararvi se già non le sapete le abbreviazioni da tastiera le shortcut che sono quelle che vi indica qui di fianco qui vabbè mi dà questo simbolo perché sono su mac comunque su pc è ctrl z per fare undo ctrl c per fare copie ctrl x per eliminare per tagliare ctrl v per incollare ctrl a per selezionare tutto quindi anche questo menu non ha niente di particolare tools non ci interessano inverti da maggiore a minore e questo non lo so ma insomma sono indicazioni che per il momento non ci interessano andiamo sotto nella stringa di sotto play questo è il pulsante per ascoltare quello che state che avete composto quindi compongo questo schiaccio play comincia la barra ad andare del sequencer poi vedete che adesso è diventato il simbolo di stop lo stop eccetera eccetera di seguito abbiamo il tempo bpm bits per minutes abbiamo la possibilità di cambiarlo quindi andate qui in questa finestra doppio clic selezionate comunque ci mettete di base standard è 110 voi ci potete mettere quello che che volete se mi da la possibilità ecco 120 ho messo ed ha preso 120 poi title titolo questo è molto importante dovete scrivere il titolo della vostra composizione ricordatevelo prima di salvare dovete scrivere il titolo altrimenti lui ve lo salva con questo nome untitled e credo che ci saranno una quantità veramente impressionante in questo sito di composizioni che non sono state salvati quei autori non hanno salvato il nome un nome giusto quindi ci saranno un'infinità di untitled quindi andarlo poi a recuperare diventa un problema abbastanza insormontabile quindi ricordatevi prima di salvare o fin da subito così non ve lo dimenticate andate 4 più clic e scrivete il vostro titolo pinco pallino ok e questa è la composizione pinco pallino a tra l'altro qui sotto vedete che vi dice hosting un milione duecento quaranta tre e trentasette sequenze cioè questo sito ospita un milione duecento quanta tre e trentasette sequenze dal 2013 quindi figuratevi quanta roba c'è qui dentro se non scrivete il titolo giusto un titolo corretto non lo ritrovate più visto che stiamo parlando del titolo quando vi do anche questa indicazione quando voi scrivete il titolo di questa vostra composizione lo scrivete in questo modo la vostra classe prendiamo come esempio prima m 1 m o 2 m quello che volete spazio pinco cioè vostro nome spazio pallino il vostro cognome è indifferente metterci maiuscole e minuscole importanti che scrivete in questo che scriviate in questo modo quindi ripeto numero e lettera della vostra classe prima m o seconda m spazio nome spazio cognome ok mi raccomando fate questa operazione di salvataggio con queste indicazioni di titolo perché altrimenti non le trovate voi e non le ritrovo nemmeno io non le ritrovo nessuno vengono perse quindi il vostro lavoro poi diventa vanificato continuiamo allora dopo il la finestra dedicata al tempo e al titolo abbiamo questi 44 icone una matita un freccia un segnale di stop e un segnale di altoparlante allora con la matita quando cliccate la matita avete la possibilità di scrivere note queste note possono essere spostate se ci andate sopra se ci andate sopra vi viene il simbolo della manina premete il tasto sinistro del mouse ottenete selezionato e spostate ad esempio la nota oppure se andate verso il confine il bordo destro di questa nota vi appare questo simbolo di doppia freccia no stessa cosa se tenete primo del tasto sinistro del mouse la potete allungare quanto volete accorciare non ha senso perché non potete andare indietro nel tempo e quindi niente con questo simbolo dell'icona della matita voi scrivete note se voglio fare un accordo naturalmente dovrò fare delle note sovrapposte perché l'accordo sono due o più note che vengono eseguite contemporaneamente quindi mettiamo che io ho fatto questo accordo a questo punto però mi accorgo che voglio portarlo fino a questo punto quindi quello che faccio è quello che faccio è non con lo strumento matita perché finché io ho selezionato lo strumento matita continuerò a scrivere note ma andrò qui prenderò lo strumento puntatore in questo senso se io anche schiaccio col tasto sinistro del mouse su questa griglia non scrivo più note perché non ho lo strumento matita ma lo strumento puntatore con lo strumento puntatore se tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse seleziono queste tre note poi vado sempre qui nel bordo destro mi appare la doppia freccia stesso procedimento tengo premuto il tasto sinistro e allungo finché voglio mettiamo fino a qui quindi ricordatevi che dovete saper passare da questi due strumenti che sono i due strumenti principali con la matita scrivete note ma non potete più di tanto editarle se non allungare il valore e la durata o spostarle ma se voglio fare operazioni più complesse devo per forza prendere questo strumento di selezione con il quale tra l'altro posso fare tutte le cose che facevo anche con l'altro in più posso selezionare tutte le note che voglio senza rischio di scriverne delle altre a caso allungarle spostarle eccetera eccetera ok quindi questi sono i due strumenti principali per cancellare una nota voi la selezionate quindi se avete lo strumento matita per esempio e volete cancellare questa nota no in realtà potete farlo anche con lo strumento matita ve la seleziona e a questo punto avete due opzioni perché no l'alternativa scusate l'alternativa era per essere sicuri comunque selezionarla con lo strumento deputato che è select seleziona no quindi voi selezionate la nota avete due opzioni o andate per icone che è quella successiva simbolo di stop erase oppure banalmente tasto indietro backspace della tastiera e ve la cancella undo ho fatto undo ctrl z o mail a command z z su apple l'alternativa appunto è seleziono questa nota e con questo pulsante di erase non serve selezionare la nota perché ve automaticamente vi cancella la nota ovunque voi clicchiate quindi ricapitolo scusate ho fatto un po' di confusione con la matita voi potete selezionare la nota e cancellarla col tasto backspace stessa cosa se invece volete cancellare più note contemporaneamente dovete prendere lo strumento select selezionarle insieme perché questa cosa non la fate con lo strumento matita backspace e cancellate oppure se sapete già quale note cancellare semplicemente prendete lo strumento erase andate sopra la nota e la cancellate istantaneamente senza doverla selezionare precedentemente ok fin qua direi che va bene questo è l'ultima icona play from play from here allora la selezionate dunque se voi generalmente non selezionate questa icona dell'altoparlante e fate play quello che succede è che il sequencer vi parte dall'inizio se invece voi volete suonare avete già sentito quello che c'è qua ma volete sentire solo ad esempio questa parte queste tre note selezionate l'icona play from here e cliccate nel punto che volete e lui partirà nel punto che avete cliccato ok questi sono i comandi stoppati sono i comandi principali dopodiché continuiamo in questa riga strumenti in questa finestra avete gli strumenti che potete scegliere sono uno due tre quattro cinque pianoforti uno due tre quattro cinque tipi di percussioni drum kit che è la batteria electric drum kit batteria elettrica l'oxilofono vibraphone è il vibrafono molto bello uno dei più bellini qui dentro perché non sono suoni di qualità essendo un sequencer online su internet quindi non possiamo aspettarci di avere dei suoni bellissimi per abbastanza rabbrividire ma alcuni suono anche accettabili direi che il vibraphone è forse il pianoforte è uno dei più sono i due dei più più accettabili steel drums che è un particolare batteria con le le bacchette ricavate da il cui tamburo è ricavato da un fondo di di barilla un tipo di percussione dei paesi latinoamericani carabica poi abbiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove sei nove tipi di chitarre chitarra acustica chitarra elettrica basso basso con slap vai via te che mi sta informando su gli ultimi aggiornamenti del coronavirus ma ne abbiamo già troppi di aggiornamenti basta speriamo che finisca presto chitarra acustica chitarra elettrica basso slap bass chitarra jazz chitarra elettrica muta chitarra distorta e poi sitar e koto che sono due strumenti giapponesi di chitarra giapponesi diciamo poi elettronici sono un due tre quattro cinque sei sette diciamo sintetizzatori elettronici poi abbiamo strumenti orchestrali ve li raccomando nel senso che non sono chiaramente di qualità e non sono verosimili quindi french horn quindi corno trombone violin violino cello il violoncello concert harpe la arpa pizzicato sarà immagino archi pizzicati e flauto quindi se io voglio scegliere uno strumento diverso dal pieno forte perché quando voi aprite questo sito automaticamente vi da il tempo di 110 bpm vi da il titolo untitled e voi dovete inserirlo e vi da strumento automaticamente gran piano quindi se volete cambiarlo andate qua e scegliete vediamo pezzicato che strumento è che suona lui ve li carichi i suoni vedete fermati devo scegliere anch'io l'icona giusta la matita e infatti sono archi pizzicati vabbè dai sono accettabili anche questi sono carini sentiamo giusto per avere un'idea come suona il corno vediamo il corno come suona ecco qua allora facciamo un accordo tipo un fa diesis minore le seleziono tutte e le allungo poi prendo l'icona del play from here e sentiamo no ad esempio si va bene ad esempio non fa note lunghe il corno fa soltanto una note corte di dicesimi e vabbè insomma non ci dobbiamo aspettare dei grandi risultati sonori di questi suoni proseguiamo questo highlight this one non ho idea di cosa esattamente possa servire stai facendo dei disastri stai fermo ho caricato il violino fermati non ho idea di cosa possa esattamente servire questo questo comando direi che ci è abbastanza inutile saperlo se andate qua su questa freccetta qui in basso cliccate show option e vi da anche qui l'accesso agli strumenti che avete in questa lista però qui quello che potete fare è bloccarli cambiare colore forse immagino no? non li cambio il colore potete aggiungere riverbero e delay facciamo un esperimento aspetta un attimo per esempio io seleziono tutto cancello tutto e e e faccio questa bellissima scrivo questa bellissima composizione il violino tanto anche il violino non fa note lunghe però poi vado qui violin dove hai il violin? qua violino vedete che sotto ogni strumento avete dr avete il colore che però non potete cambiare credo e avete dr che è delay e reverb delay e reverb se mettiamo attiviamo il delay chissà cosa succede queste funzioni non le avevo viste prima le sto scoprendo con voi vediamo un po' sì c'è il delay per avere chiaramente un delay che continua più a lungo dovrò selezionare 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 perché non me le selezioni ecco selezionare queste note e ad esempio tirarle più a lungo quindi sentiamo adesso come suona col delay ma anche il delay è corto vabbè comunque insomma avete questa possibilità di aggiungere delay oppure reverberi l'ho visto anche prima reverb quindi reverb lo metto togli il delay così sentiamo solo il reverb ecco qua il reverb vi faccio notare che se noi suoniamo dall'inizio tutto quanto spostate un attimo queste prime note queste prime notine qui non avranno né riverbero ma ce l'hanno ma caspita ma è veramente geniale allora questo programma quindi se ho fatto un po' di confusione sono cose nuove che non avevo notato prima scusate se volete inserirci riverbero lo inserite e questo riverbero o il delay che vedete qua sono due effetti che varranno per tutte le note che voi scrivete ok poi avete la possibilità di alzare con questa barretta qui o diminuire il volume dello strumento mettete che nella vostra composizione esistono diversi diversi strumenti violino oppure io scelgo il trombone carichi matita grazie e scelgo il trombone quindi avete colori diversi poi ci metto questo strumento synth ok quindi avete strumenti diversi però volete ad esempio che soltanto il violino qui sopra sia abbia degli effetti o se abbia un volume più alto rispetto agli altri quindi appunto andate qua e aggiustate il violino lo alzate di volume ci aggiungete reverb o delay se volete questi effetti eccetera un altro comando è questo lucchetto dunque mettete che voi avete scritto questa composizione e questa parte del violino ormai per voi è già a posto così non dovete più modificarla quindi banalmente per rischiare di modificarla la schiacciate questo questo simbolo diventa non più selezionabile questo 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 violino soprattutto qui in questo lo strumento seleziona e non diventa più selezionabile il violino perché vedete che me l'ha anche il colore è diventato più opaco più trasparente quindi significa che non posso più farci niente se voglio tornare a lavorarci con questo strumento lo unlock lo sluchetto se esiste in italiano la parola e è ritornato appunto il violino editabile modificabile di prima ok comunque questi sono poi i dettagli di cui non so se troverete l'utilità se vi serviranno però giusto per capire come funziona questo programma li guardiamo poi niente banalmente avete i comandi principali che avete anche qui sul menu file sul menu edit scusate che è copia incolla e taglia incolla seleziona tutto potete chiaramente usare questi comandi se volete io vi consiglio di usare le abbreviazioni anche perché sono abbreviazioni queste che vi trovate qua che funzionano non solo in questo programma sono abbreviazioni standard che funzionano con tutti i programmi che fate funzionare su computer quindi se non li conoscete sarà utile imparare a conoscere appunto poi qui avete zoom in e zoom out zoom out e zoom in quindi se lo cliccate vi va in dettaglio cliccate fuori zoom out e vi torna fuori ecco se mi stavo chiedendo prima infatti perché quando viene caricata la pagina principale non potete ad esempio vedere tutta la tastiera più giù di queste note quindi se volete vedere o più in alto vedete che si ferma se volete invece vederla direi che si faccia così zoom out e lo rimpicciolite ecco e qui avete esattamente tutti tutta l'estensione della tastiera che va da C1 a B7 un'altra particolarità se voi selezionate uno strumento e restate qui nei bordi la tastiera questa parte blu qui a destra se voi restate in questa situazione e non andate con la freccia come andiamo fra un attimo sulla griglia esattamente su griglia non potete utilizzare la vostra tastiera di computer personale vi faccio vedere un secondo questa situazione ecco io sto utilizzando la tastiera del computer ma essendo qui sopra o qui a sinistra non me la rileva quello che dovete fare è andare banalmente spostarvi sulla griglia e adesso invece io posso utilizzare i comandi cioè i comandi la qwerty keyboard la tastiera del computer per addirittura suonare se ve ne sembra se vi sembrerà utile fare fare questa cosa quindi magari per avere un anteprima di quello che suonate però vi consiglio voi siete musicisti vi consiglio di suonare sui vostri strumenti su una tastiera per chi è pianoforte sicuramente fa prima per chi è pianista sicuramente fa prima per quanto riguarda save qui andate su save c'è la solita freccetta in basso e vi da tre opzioni save a copy save local file export MIDI allora per quello che ci interessa a noi una volta che voi avete scritto il titolo come vi ho spiegato scritto la vostra composizione quello che dovete fare è salvare una copia quindi primo primo comando save a copy save a copy e qui nella parte destra infatti vi dice link to this sequence e vi da il link per ritrovare la vostra sequenza se cliccate su questo link vi ritrovate la vostra sequenza giusto per avere l'idea che è importante anche avere inserire un titolo esatto proviamo a cercarla questa sequenza con questo titolo cioè prima m pinco pallino allora per cercare le sequenze una volta che le avete scritte dovete andare qui sopra su sequenze vi dice lasciate questa pagina si lasciamo ormai non ci interessa qui avete la stringa di ricerca qui c'era test zullo che l'avevo cercato prima adesso scriviamo prima m spazio pinco pin non so più scrivere pinco pallino cerchiamo e infatti se ce n'era già un'altra ad esempio c'era già un'altra che si trova che si chiama pinco pallino questa se ce la vedete sopra col mouse vedete che si chiama pinco pallino d o e g la nostra è questa prima m è pinco pallino quindi voi cliccate qui cliccherete qui e vi si aprirà la finestra nella quale voi avrete soltanto la possibilità di 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 ascoltare la vostra composizione vedete avete questo pulsante di play bellissimo poi ve lo rifà bene finiamo questo orrore ok quindi quando andate a ricercare se la volete ricercare la vostra sequenza vi si apre questa immagine ma sostanzialmente è un video non è nel tanto che un video non potete in questo senso modificarla a meno che voi non andiate qui in questo strumento ve lo faccio rivedere questo è diciamo il video della vostra sequenza se volete modificare tornare a modificare non siete sicuri andate sullo strumento matita e matita e vi rimanda alla pagina nella quale potete ritornare a modificare tutto quindi direi che abbiamo finito se è tutto chiaro ripeto voi sicuramente scrivete dovete scrivere il titolo nella maniera esatta e corretta altrimenti non lo ritroviamo qui potete scegliere gli strumenti per inserire note editarle modificarle vi ho spiegato come si fa alla fine di tutto save e save copy col nome giusto e ve lo salva in modo tale che possiamo poi rivedercela e riascoltarcela tutti quanti direi che abbiamo detto tutto adesso vi faccio vedere il file che vorrei che voi realizzate cioè io vi manderò questa pagina che è una una partitura per pieno forte di scarbo fair che è un brano tradizionale inglese celtico non so esattamente di dove ma insomma molto noto quello che dovete fare è ricopiare queste note quindi anche la chiave di violino il pentagramma della chiave di violino cioè della mano destra e pieno forte ma anche il pentagramma della chiave di basso mano sinistra e pieno forte dovete ricopiare tutte queste note che vedete qui sopra quindi ricapitolando voi andate su andate magari sto impazzendo andate sequencer online sequencer online sequencer online sequencer online andate qua siete in questa pagina e a questo punto voi ricopiate questa partitura qui davanti quindi quindi tenete presente che il do centrale è si trova si trova si trova si trova qui no ok perché di solito il do centrale è siglato c3 ma in questo caso non è così il do centrale non è c3 ma è c4 questo ok quindi il do centrale del pieno forte su questo sequencer online non è c3 solitamente è c3 non so perché ma ci sono queste differenze a volte tra sistema americano inglese in questo caso insomma se voi suonate c4 questi c4 sono do centrali ok quindi fermati quindi questo è un re della ottava centrale e quindi sarà ad esempio sarà quella re sarà qui e vi vi aggiusto ecco un'altra cosa prima di chiudere vi faccio vedere vi faccio capire come funziona questa griglia questa griglia funziona in questo modo qui vedete che in alto avete i numeri 1 2 3 4 5 6 6 3 sono le battute sono divise dai numeri e sono divise soprattutto anche da queste righe più spesse poi avete un secondo ordine di righe meno spesse che sono queste 1 2 3 che sono i quarti un quarto due quarti tre quarti quattro quarti quindi vuol dire che le righe il terzo livello di righe ancora più fini sono saranno right saranno i sedicesimi sedicesimo 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 un quarto sedicesimo due quarti così via quindi questa è la griglia principale non credo che vi necessiti di cambiarla e di trasformarla però vedete che qui in basso avete meno grade griglia in questo momento è visualizzata una griglia standard che vi fa vedere i quarti ok se voi cliccate qua e volete invece scrivere ad esempio dei valori più brevi dei sedicesimi perché qui non potete scrivere dei trentaduesimi voglio dire con esattezza no poi potete sempre accorciare la nota però con esattezza non potete dire se è un trentaduesimo perché qui non avete le righe dei trentaduesimi avete le righe delle battute dei quarti dei sedicesimi quindi andate qui scegliete ad esempio un ottavo vedete che la griglia diventa più specifica più piccola più raffinata e a questo punto le righe di secondo livello vedete che non sono più quattro ma sono otto perché vi fanno vedere gli ottavi ok dentro a un ottavo avete quattro sotto righe quindi vuol dire che qui stiamo parlando di trentaduesimi cioè se io faccio questa nota questo è un trentaduesimo ok se torniamo alla visualizzazione di quarti vedete che infatti i miei trentaduesimi sono esattamente hanno confini che corrispondono esattamente alla metà di lo spazio del sedicesimo ok però in questo se avessi questa griglia e dovessi scrivere trentaduesimi farei fatica ad essere preciso ma in questo senso non avete problemi perché qui non avete trentaduesimi l'unico punto diciamo è questo dove avete delle crome avete una minima puntata e una croma quindi non avete nemmeno sedicesimi insomma non avete problemi quindi niente scrivete riscrivete questa partitura con il suono del pianoforte ok quindi scrivete scarbo fer esattamente così come è scritta con il suono del pianoforte con gli accordi che questi accordi valgono tutta la battuta che stavo guardando stavo guardando che è in tre quarti lo fate lo stesso provate perché qui in realtà non vi da la possibilità di cambiare il tempo ad esempio cioè il tempo la velocità sì ma non il tempo in chiave diciamo qui è quattro quarti e quattro quarti starà per sempre ma in realtà non ci cambia molto non siamo così fiscali questo è un tre quarti quindi vuol dire che le vostre battute in realtà finiranno dopo tre quarti quindi un quarto due quarti tre quarti qui ci dovrebbe essere la battuta numero 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 due quindi sappiate questa cosa non corrispondono esattamente le battute a perché questo è scritto in tre quarti questo sequencer online invece è basato su una time signature di quattro quarti e non si può cambiare da quel che vedo ho provato anche tante volte ma non ho trovato il modo si può cambiare la griglia ma non il tempo vabbè ma non ci cambia molto qui la mano la mano la mano la mano sinistra dei pinoforti questi accordi dovranno valere tre quarti ok dovranno valere tre quarti quindi quello che dovrò fare ad esempio è scrivo un accordo a caso seleziono queste tre e se io voglio che duri tre quarti vado qui mi viene la freccetta tasto sinistro tengo premuto questo è un quarto allungo questo è un quarto questo è due quarti questo è tre quarti ok quindi questo è il modo ricapitolo quindi scrivete questa partitura esattamente come è scritta con il suono del pianoforte e in più quindi cercate l'obiettivo è cercare di scriverla bene insomma che suoni bene esattamente così come è scritta qui e in più aggiunge troppa acqua frizzante aggiungete tre strumenti aggiungete tre strumenti quindi immaginiamoci che qui ci sarà questa partitura di scrub of fear ognuno di voi che sarà uguale dovrebbe essere uguale per tutti perché la partitura è sempre quella però in più ognuno di voi aggiungerà a questa partitura tre strumenti ad esempio potrei aggiungere a questa partitura che ne so un basso chiaramente aggiungete aggiungete questi strumenti in maniera coerente che abbia senso non scrivendo naturalmente delle note a caso ma che sottolineino la musica e la valorizzino in qualche modo quindi io ad esempio metterò un basso oppure potrò mettere che ne so un violino selezionerò il violino e copierò ad esempio mettiamo che questa sia la melodia copio e e fermati 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 copio e incollo copio e incollo e quindi ecco copiate e incollate quando le incollate ve le incolla esattamente dove sono le note quindi è come se fossero sovrapposte voi una volta incollate selezionate il gruppo di note e lo spostate vedete che appunto vi visualizza la seconda il secondo sistema di note che avete copiato lo portate su se ad esempio io adesso queste tre note voglio voglio che queste tre note siano suonate dal violino le seleziono sono già suonate facciamo un altro voglio che siano suonate dal coto eccole qua infatti cambiano colore no? e quindi e quindi questo è il bellissimo risultato quindi ad esempio ricapitolando una volta che avete la partitura di scarbofera aggiungete tre dicasi tre strumenti che possono essere strumenti che stanno in un'estensione più grave più acuta che rifanno cose che ha già fatto il pianoforte appunto raddoppiare la melodia aggiungere un basso potete aggiungere se volete anche una batteria un ritmo vediamo se funziona questa cosa ecco un'altra cosa vedete che se avete uno strumento intonato qui nella tastiera qui di fianco avete soltanto le note se invece avete scelto drum kit qui avete non le note perché la batteria chiaramente non fa note intonate ma fa suoni effetti e qui avete in inglese chiaramente tutte le articolazioni si può dire della batteria quindi bisognerebbe anche saperle conoscerle i due principali comunque se non le sapete ve le dico sono snare drum snare drum 1 snare drum 2 lo snare drum è il rollante oppure avete anche kick drum che è la gran cassa quindi gran cassa e rullante sono i due principali se io voglio scrivere un pattern di batteria questa è la gran cassa poi vado a scegliere il rullante dunque questi sono 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 sedicesimi quindi i quarti sono qui e no questo volevo ok sentiamo mettiamo questa cosa ok se voglio copiarlo punto fermati strumento seleziona seleziona tutto ctrl c e ctrl v c per copiare c per copiare ctrl v per incollare seleziono tengo premuto e sposto infatti mi ha copiato tutto quanto quindi adesso l'ho allungata poi ad esempio avete nella batteria molto spesso avete i tom e potrebbe essere utile anche inserirci un hi-hat che è il il charleston che si trova qua hi-hat closed hi-hat chiuso pedal e open facciamo chiuso quindi è questa qui mettiamo la matita ecco qua questi sono sedicesimi quindi io in realtà li posso anche copiare perché sono sempre uguali copia e incolla porto qua poi copio e incollo tutto questo copia e incolla e appunto mi ha copiato tutti i miei charleston quindi se noi andiamo a sentire questa parte da qui ok carino quindi insomma questo è quello che fermati 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 per favore basta fermati ok ce la posso fare bene ricapitolando questo è il brano poi ve lo condivido ve lo scaricate ve lo ricopiate tra virgolette su sequester online e aggiungete questi altri tre strumenti a vostra scelta che possono fare cose a vostra scelta purché siano cose che abbiano senso ok non chiaramente note a caso casuali l'ultima cosa se vi rendete conto che una parte sarebbe meglio affidarla ad un altro strumento quello che dovete fare è non questo è prendere lo strumento seleziona seleziona ad esempio queste tre tre note perché non me le seleziono ok queste tre note andare su lo strumento che volete in questo momento sono tre note di basso mettete che le vogliate far suonare dal harpsichord che è il clavicembro e questo infatti è stato quindi andate qui e scegliete lo strumento quindi o prima di scrivere scegliete lo strumento altrimenti se una volta che avete scritto la parte volete cambiare o anche semplicemente per il gusto di sentirla suonare da un altro strumento da un altro suono la dovete selezionare ve lo rifaccio vedere selezioniamo questa parte andiamo qui e scegliamo music box no magari music box no xilofono chi lo sa e infatti è cambiato quindi adesso questa parte non sarà più speriamo incrociando le dita la batteria ma sarà l'oxilofono non suona perché l'oxilofono non ha sue note così così basse così basse direi spero quindi se noi lo portassimo ad esempio qui in alto vediamo se suona adesso e infatti suona questa era la parte della batteria che abbiamo trasformato in xilofono quindi vedete che è un programma ritorno alla visualizzazione alla visualizzazione scusate principale questa è un programma piuttosto lofi si direbbe in in inglese tagliota cioè piuttosto scadente però in realtà ci è utile per fare un esercizio di questo tipo per cominciare a capire un po' come funziona un sequencer questo è il primo approccio non ha tutte naturalmente le capacità le funzionalità di un sequencer a livello midi perché ci sono tante altre cose che poi dovremo anche guardare insieme la velocity altri parametri però per il momento non li abbiamo visti insieme e quindi questo per il momento è sufficiente ok bene direi che abbiamo finito spero di vedervi virtualmente presto se avete bisogno di fissare delle lezioni anche per quanto riguarda i sportelli di TEC volendo anche TAC anche se la mia TAC è riferita principalmente alla terza quarta e quinta ma insomma anche per prima e seconda potrebbe potrebbo soprattutto potrebbo aiutarvi qui in solfeggio o altri contenuti riferiti sempre a materia TAC per TEC non c'è problema basta che me lo sappiate dire iscrivete vi ho lasciato i recapiti anche telefonici quindi direi che non c'è problema aspetto le vostre composizioni così come abbiamo come vi ho spiegato oggi ok state bene state in salute questa terza ciao